Si è concluso ieri il seminario Il racconto del suono, organizzato a Lorenzo Endel all'Accademia di Belle Arti di Sassari. Ospite e protagonista della Masterclass, Mirko Mencacci, sound designer per il cinema. L'autore, il cui percorso vanta collaborazioni con i registi Michelangelo Antonioni, Ferzan Ospetec e Marco Tullio Giordana, ha partecipato a centinaia di festival cinematografici e le sue opere sono state proiettate anche al Guggenheim, al MoMA, al Pompidou, al Museo Maxi di Roma e alla Biennale di Venezia. Un'importante occasione per gli studenti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un professionista del settore. Durante il seminario Mencacci ha proiettato alcuni dei suoi lavori, spiegato metodi e procedure della lavorazione del suono di fronte ad una platea di numerosi partecipanti. Il workshop fa parte dei molti appuntamenti organizzati dall'Accademia Mario Sironi, mirati a promuovere la conoscenza del mondo dell'arte contemporanea attraverso i suoi protagonisti.